Buonasera a tutti, Vegan Boys e Vegan Girls, pasticcione e pasticcione, Veggies e la Puglia, tutti coloro che mi seguono sul profilo Luigi Miccolis, su Instagram e su Youtube. Vi facciamo i nostri più cari auguri di buon 2015, da parte mia e di Antonella la pasticciona vegana, che possa essere un anno ricco di felicità e di armonia con la natura e con tutto. Il 2014 è stato un anno davvero ricco di cambiamenti molto positivi, quindi grazie davvero a tutti, perché con l'apertura di Vegan Boys, la pagina Facebook e di Veggies, il gruppo, sono diventati dei canali di informazione molto importanti, abbiamo conosciuto molte persone, ognuno di voi ci mostra sempre molto affetto, molta gratitudine e ripone molta fiducia in noi. Abbiamo creato delle iniziative, delle collaborazioni per aiutare animali, per aiutare i bambini in Tanzania, sono nate davvero delle belle iniziative. Quindi continuate a seguirci, grazie di vero cuore, a presto! Buonasera, Vegan Boys e Vegan Girls, qui è Vegan Boy e la pasticciona vegana. Buonasera a tutti! Cosa farai? Non fare niente! Buonasera a tutti! YouTubers, youtubers, vi ringrazio... ho detto pasticciono e pasticciono? A questo personaggio di... praticamente... sta male questo personaggio? Buonasera! Si vedeva... ricco di abbondanza! Un anno di ricchezza! E condividiamo con... con molto piacere! E che offre più benessere a 360 gradi... 360 gradi! ... ... ... ... ... ...